In provincia di Foggia Forza Italia è tornata e vuole portare a Roma un suo esponente. E' questo il messaggio lanciato oggi di Raffaele Di Maure degli Azzurri di Capitanata al coordinatore pugliese del partito Luigi Vitali. Quella che si è svolta al palazzetto dell'arte di Foggia è stata la prima riunione in visa delle politiche, politiche che il partito di Berlusconi vuole vincere con un centrodestra unito. Ma lo abbiamo già compattato alle elezioni amministrative, se non ci sono veti, se non ci sono pregiudizi, se non ci sono contrapposizioni, noi siamo disponibili a discutere. Peraltro una quota di questa legge elettorale è maggioritaria, quindi ci obbliga a sedersi intorno a un tavolo tutti quanti, gli alleati e ad individuare i migliori candidati possibili sul territorio. Poi ognuno farà la propria lista nel proporzionale e quella di Forza Italia sarà soltanto di Berlusconiani. Un centrodestra che in Capitanata punta per un posto a Roma su nomi quasi certi come quello di Giandiego Gatta e Luigi Miranda. Intanto da indiscrezioni pare che il sindaco Franco Landella abbia avuto qualcosa da ridire ai dirigenti nazionali sulla decisione di Berlusconi di escludere dalla prossima partita politica i sindaci ancora in carica. Qualora il primo cittadino non dovesse spuntarla farà il tifo per Giandiego Gatta, una sua elezione infatti potrebbe liberare un posto in consiglio regionale dove è già pronta la cognata Micaela Di Donna. E' certo che circoli il mio nome, non è certo che il mio nome ci sia. Diciamo che sono abbondantemente, mi si perdoni l'avverbio, promosso dal partito a questa eventuale candidatura, tenuto conto del mio risultato alle ultime elezioni regionali. Ricordo a me stesso di essere stato il più votato della regione Puglia per Forza Italia, per cui vi sarebbero, usiamo il condizionale, che è il verbo che si impone in questi casi, vi sarebbero buone possibilità di avermi candidato alle prossime elezioni politiche, ma vedremo quello che il partito deciderà, poi lo valuteremo.